Musica Buonasera a tutti, interrompiamo le trasmissioni per collegarci in diretta a Riti Unificate con il primo astronauta al mondo che forse atterrerà... ...speciale, molto speciale da Marte dove abbiamo un inviato... Ecco, vedete qui una visione di questa mappa stellare straordinaria dove vediamo in lontananza a Marte... ...questo appuntamento della nostra serie parleremo di Marte... ...un grande giorno per il pianeta Terra, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità... Pianeta Terra, chiama Dario, ci senti? Pronto, pronto mi sentite Pianeta Terra, ci sono quasi... ...riesco già ad inquadrare il pianeta nel monitor, è così emozionante, non posso crederci... Ok, adesso siamo arrivati sul Marte, vi faccio vedere come camminiamo! Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.